Io sarò pure un figlio di Puntana, ma mia madre è una santa donna, va bene? E' così perché ogni volta che parlo con me è di politica. Potete anche applaudirlo. Dai che si fanno salvi. Adesso scelgo io. Sì, arriva l'acqua. Che cosa che ha già fatto? La mosca. La mosca. La mosca, te lo parlo con una bottiglia d'acqua, che con questo caldo vale. E' il più venduto in questi sei anni, praticamente, è quello che di solito viene comprato per primo. Non si sa perché, è un mistero. E' una di queste sue elettorazioni, in questa stanza.